A Natale il vero dono sarebbe poter riabbracciare coloro che non possiamo più avere accanto. Donare un sorriso alle persone infelici per accendere in loro un lume di speranza. Donare un vero Natale a chi non può più averlo. Anche se non tutti lo capiranno, i volti chiari del Natale ci chiedono di non restare soli, di lasciare che gli occhi si riempiano di stupore e le case di allegria, di gioia pura, A Natale il vero dono è starsene qui, con le mani nude della fantasia, a scavare gentilezza e trovare amore. Sono i volti di gioia del Natale, a chiedersi di non lasciare solo nessuno. Buon Natale!